Voglio troppo spaccare, sfondare tutto. Ma tu hai studiato canto un po'? No. Canto e scrivo da tipo quando ho 12-13 anni, invece suono la chitarra da quando ho 6. Il canto è stato un po' amore a prima. Cioè, per la prima volta ho fatto qualcosa tutti i giorni della mia vita. Sono sicuro di non volere fare altro. Sarà duro a scegliere. Ciao a te, Sara. Grazie mille. Ti scelgo. Hai deciso? Ho scelto. Sono molto contenta. Grazie per la possibilità. Sono molto, molto contenta. Grazie mille. Grazie mille.